Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta fredda biscotti e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Ingredienti sono biscotti tritati grossolanamente, nocciole tritate grossolanamente, zucchero, cacao amaro, acqua, burro e per la glass cioccolato fondente, panna fresca per dolci e granella di nocciole per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il cacao ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro, l'acqua ed azionare il bimbi per 6 minuti, 90 gradi, velocità a 3. lasciare raffreddare. Trascorso il tempo il composto si è ben raffreddato, aggiungere le nocciole e il composto e amalgamare bene con la spatola. Trasferire il composto in una tortiera foderata con carta da forno con pellicola trasparente e livellare bene con il batticarne. Riporre in frigo e nel frattempo preparare la grassa. Senza lavare il boccale mettere il cioccolato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 5 minuti, 50 gradi, velocità a 3. La glassa è pronta a versarla sulla torta. Riporre in frigo per almeno tre ore, successivamente decorare con la granella di nocciole, rimuovere dallo stampo e servire. Torta fredda, biscotti e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!